Non è stata l'ultima strage che questo governo e altri in piena continuità hanno continuato a permettere. Davanti al nostro mare, il mare Mediterraneo, un mare dove diversi popoli si guardano e condividono una storia, hanno iniziato in questa decade e in quella precedente a condividere storie di morte. La storia di queste morti non sarà dimenticata, ma soprattutto per noi è importante celebrare chi vive. Vogliamo politiche che sappiano celebrare la vita, che sappiano dare dignità a chiunque abiti in questo mondo. C'è un grande privilegio che è quello di avere la possibilità di avere un passaporto europeo che permette in maniera quasi incondizionata di viaggiare in tutto il mondo.